Il momento della verità per Ubisoft è finalmente arrivato. Watch Dogs, che ha battuto ogni record di prenotazione, è finalmente tra noi. Aiden Pierce, dopo mesi di ottimizzazioni, è dunque pronto per hackerare PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e Xbox 360. Un free roaming davvero spettacolare che non delude assolutamente le aspettative. Dopo mesi di attese, rinvie e speculazioni, il progetto più importante di Ubisoft, Watch Dogs, è finalmente disponibile per PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, mentre la versione per Nintendo Wii U arriverà più avanti nel corso dell'anno. Watch Dogs è un free roaming atipico e decisamente next gen, come design, impostazione, varietà ed interazione, sia ambientale che con i personaggi non giocanti. Il protagonista, Aiden Pierce, un hacker dal passato misterioso e sanguinoso, si muove a Chicago mosso da propositi di vendetta. Tramite il suo smartphone può accedere a diverse strutture che gli permettono di portare a termine le missioni nei modi più disparati. Tecnicamente spettacolare, con un framerate ancorato ai 30 fps e risoluzioni elevate su PlayStation 4 e Xbox One, una componente multiplayer intrigante ed una longevità sopra la norma, Watch Dogs si conferma un must-have da non perdere e un nuovo franchise per Ubisoft dal potenziale eccezionale. Mai vista tanta varietà all'interno di un free roaming, anzi il termine corretto è densità, di cose da fare, di NPC con cui interagire o perché no, magari spiare. Il bilanciamento poi è davvero ottimale e consente a chiunque di adottare un proprio stile di gioco. Tecnicamente poi davvero una meraviglia, su PC ovviamente dal meglio, ma anche le versioni PS4 e Xbox One reggono benissimo il passo. E poi c'è una storytelling di altissimo livello per un gioco con una grande componente narrativa. Insomma, Watch Dogs è un titolo davvero a tutti i costi. Un'altra partita di 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 un'altra partita Grazie.